Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Mizzar e eccoci con Kingdom Come Deliverance abbiamo liberato Pio, l'abbiamo portato dal balivo, adesso dobbiamo raggiungere il bosco degli incettatori e sperare che loro crederanno alla nostra storia e ci portino al campo dei banditi, vi chiedo scusa già da ora se ho un po' tardato con questo episodio ma ho avuto un po' da fare e quindi ho dovuto tardare anche la registrazione, detto questo il nostro obiettivo quindi l'accampamento o meglio l'incontro con gli incettatori è qui dalle parti del monastero quindi raggiungiamo questa zona e vediamo di parlare, di convincerli che abbiamo sistemato Pio e quindi possiamo portarci al campo dei banditi, il campo dei banditi dovrebbe trovarsi qui da queste parti, ok da qua, mettiamo un segnalino, ok qua nei boschi questa cosa rossa qua forse li ho trovati, vedo una struttura proviamo ad andare a piedi, dovrebbe essere questa luogo di interesse no è una semplice casetta ma non c'è nulla ah ma perché siamo da tutt'altra parte, bonnaggia, allora aspettate andiamo verso il punto di interesse allora dovremmo esserci, dovrebbe essere qui da queste parti ok accendi un fuoco per avvisare, ma in che senso accendi un fuoco? qui nell'erba? sotto la pioggia? no non è possibile deve esserci un accampamento, un qualcosa, aspetta qua, eccolo usa infatti mi sembrava strano accendere un fuoco, non è che sta piovendo di rotto però il nostro volerli riuscirà ad accendere il fuoco ugualmente guarda che ci stiamo pure alloialdo ci stiamo pure addormentando bene, stai sono mi sono ho fatto che ci stiamo spettando con il giovane noi siamo ci stiamo ci stiamo ci stiamo iniziando nemmeno lastimando in una misura all'inizio dovevano ci stiamo ci stiamo interno business we heard there was some trouble and a monastery question is was it the right start did you do that job we agree ok I'll show you the answer how should I know the world is full of idiots it's done you got proof hmm I found an error on my body I didn't find anything unusual on him except for a lot of coins I'd say that's unusual for a month wouldn't you? well have you got it on here? eh paga con parte eh 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 senti io voglio giocare se siamo dei ladri eh ragiono come un ladro quindi il denaro è mio forget it I put my neck on the block for that coin and I'm keeping it you what? that's not how we do things, boy you don't question are they? hand over that money eh vabbè non do we dargli alright don't ever try anything like that on me again sure here you are well I never honest to god Groshen what are you so glow about? you didn't think I'd let you keep it, did you? here's your chef for the work you did in our devotion what now? what now? you do the job welcome ok, si finna but what do you need people like me to do? I'm just a crimp all I do is recruit now you get to go to our camp and find out everything you need to know where? you seriously telling me you didn't know it's the camp? not too observant are you? well there's a hill above Sasav and on top there's an old abandoned fort only it's not as abandoned as it used to be that's where the camp is go there and report to othello by the name of eric tell him cos he had something and they'll let me in just like that good point I almost forgot show this to them it's our sign that's all? that's all you learn everything you need to know at Rannock and hurry up I got a feeling there's something really bad ok si fidano di me quindi possiamo stare più tranquilli e felice serrazzi che saranno scelte gli esi dell'indagine vabbè di parlare non possiamo più parlare quindi qui è l'obiettivo dove dobbiamo andare adesso però dobbiamo riferire a serrazzi ciò che abbiamo scoperto che qui tra le montagne di Sasau tra l'altro l'abbiamo anche scoperto si nasconde l'accampamento quindi dove è il cavallino? qua eccolo qua via il Peebles allora signori è stato un piacere grazie per avervi reclutato e ci vediamo lì all'accampamento ciao ciao allora noi adesso andiamo da serrazzi a parlare riferiamo ciò che abbiamo scoperto vediamo che ci dice sicuramente ci dirà di indagare sul sull'accampamento nuovo speriamo di non fare danni e niente ragazzi vediamo come sembra la situazione quindi ora obiettivo serrazzi eccoci di ritorno a ratti serrazzi dovrebbe stare qua sopra questo capitano Bernard capitano Bernard ormai lei non è più nessuno solo io il preferito qui va bene dopo aver fatto lo spavaldo direi che possiamo andare a parlare con i nostri capitani questa è la stanza no no è qui eccoli eh non c'è mai al peggio che sarà non è succede ci sono ciò cosa ciò 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 e cosa hai trovato? hanno un altro più grande encampmento in Vrannik, vicino Sassau che questi bambini vogliono? e chi sono in giro? per uscire la regione? non è sicuro, ma posso capire come? sono uno di loro ora ho il loro segretto signo sai dove il campo è tutto che devo fare è andare a guardare questo è da questione, è troppo rischi sire, compared con tutto quello che ho avuto per farlo per farlo, sarà un figlio ho già passato il testo, credo mi allora dovremmo attaccare loro prima che le cose si tratta di mano idealmente ora ora, quando non ci ci aspettiamo una volta che ci troviamo che ci troviamo che ci troviamo che ci troviamo, ma poi ancora prima che ci troviamo, sarebbe utile avere un spi che scopo e scopo che ci trovano e ci troviamo e cosa ci troviamo non voglio che prendi nessun rischio è molto meno rischio che la nostra scoperta su Prima Slavits ok allora Hal, vai qui e sbagliati quanti di loro e quali sono i loro plani e qualsiasi che puoi e non mettere il tuo cuore troppo sì, signor ma è la mia impressione o se Renzi mi è sembrato più preoccupato del solito va bene, mi sembrava non lo so, più preoccupato dai capitano Bernard di Davanti che è una missione importantissima da compiere niente, dobbiamo aspettare che si muove oh dove è Peebles? eccolo qui sì, comunque rai se Razzing sembrava più non lo so, più strano più preoccupato ecco, più preoccupato va bene dai aggiungiamo il luogo dell'accampamento cerchiamo di vedere quanti sono e tutte le informazioni possibili per preparare l'attacco anche qui anche qui direi di passare sempre con le buone maniere giusto per farci gli amici come sei finito? come sei finito qui io? tu sei un po' verde non sei? io? io sono proprio a casa guarda? quando i lords si combattono ti trovi mi e il mio sordio su una parte o l'altra quale paga meglio ok, quindi vabbè un mercenario che succede? con un'armada del genere scorceremo qualsiasi difesa come burro quindi sono tantissimi e vabbè, come va? e vabbè, come va? non buono ho solo stato qui un po' di giorni ma non ho complesso la città la città la buona beh, la città tu mi sembri agguerrito ah, ho già parlato con lui, ok questo all'entrata magari anche lui, vedete Grigio quindi non vale la pena fare lo stesso dialogo tu? idem lo stesso? lo stesso? oddio dovrei avere del velino se non sbaglio ok ok a posto lui ha lo stesso non sa niente comunque allora due quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici vabbè io li conto però poi magari approssimo facciamo una un conteggio diciamo approssimativo per mo' un quattordici uomo quattordici quindici ma sicuramente sono di più di quindici no, ci siamo impallati vabbè andiamo già sopra i venti uomini sicuro toh venti facciamo anche una trentina allora non vedo comunque tante cose tipo lì come all'altra città che c'erano i bauli con le frecce quindi pochi arcieri proviamo a parlare con questo no, dici sempre le stesse cose niente allora andiamo da Eric e facciamo una cinquantina di uomini non è che Eric sta già rotondando lui sta già facendo i suoi calcoli i comandanti ok però anche loro mi dà come se avessi già parlato qua qua dovrebbe stare Eric ecco è qui? sì allora vediamo di capire da dove dove devo andare ma usa cosa? eccolo come si vede che tu sei il capo eh guarda qua che bell'abbigliamento c'hai è arredamento tra l'altro ok mi posso sedere? sì ok parla parla cosa vuoi? cosa vuoi? Coslick mi ha sentito ah più rinforzamenti sei la persona del monastero sì quindi hai veramente matato il codice? sì sì benvenuto ho sentito di te e sinceramente non ho pensato di succedere oh ormai siamo esperti di spada sì so usare una spada sì vedo cosa faccio beh penso che sia meglio se ti mettiamo a test andiamo al nostro maestro combat Vanyed si troverà pronto cosa sei da andiamo all'interno come il stock A il suo tento è vicino alla arena ok eh che pizza vogliono ancora testare le mie abilità beh andiamo a a fare sto mini allenamento dov'è? scendo in giù attraverso le tende di qua ma secondo me sono più più di 50 questi a questi salve lì il maestro d'armissimo è un bello più bello più bello a chi? c'è la media matura ah sì? ci siamo conosciuti a scalica non vi conosco proviamo dai ma c'è siamo onesti perché forse ci ha riconosciuto quindi ci siamo conosciuti a scalica aaaaaaah sì beh lo ricordo sì beh lo ricordo sì è la prima puntata sì sì è la prima puntata lo ricordo no 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 ma perché? ok vai eh come sono migliorato eh maestro d'armi hai visto? l'esperienza sul campo no Dio tu mi ha capito tu è molto meglio che la maggior parte che di questo è questo lato ho fatto un po' c'è è stato un' non sei avuto non voglio non voglio non voglio prendere la mia Una torrente scorreggia, fantastico. Torna da Eric. Vabbè, possiamo togliere l'armo. 50-60, visto? Quindi più o meno ci ho azzeccato. Noi arrotondiamo e facciamo 80. Il problema è che devo arrivare a prendere 80 uomini. Ok, obiettivo completato, perfetto. Bello però, sto cavallo nero. Ma questo è il... Ehm, aspetta, lo conosco. Ho la faccia conosciuta. Sì, vabbè, in un capo di 50 uomini, da soli. È arrivato. Mi rispettavo per il discomfitto, ma è per la vostra sicurezza. E la vostra, ovviamente. Mi rispettavo per il discomfitto. Mi rispettavo per il discomfitto. Mi rispettavo per il discomfitto. Mio padre è morto. Appunto. Signori, forse ho capito. E' Ratzik, il nostro padre. Allora, vedi. E' lui. E' se è Ratzik. Boom. Allora, how much can he really care about you? Here you are, a homeless orphan, and he still hasn't acknowledged you. Your parents are both dead, aren't they? I thought so. And yet, Ratzik still hasn't told you the truth. Could it be that he's ashamed of you? I wonder if you'll want to pay that ransom after all. Well, best not think about that. If your father won't pay your ransom, you have no value to me. My father's dead. I understand why I feel that way. My own childhood was not dissimilar. How strange that we should have something in common. But I've delayed long enough. Now it's time for you to tell me why you came here. I was looking for my father's sword. Which was stolen by a certain bastard. And I found it. But I wonder which father you mean. In a way, it belongs to both. Doesn't matter who it belongs to. I'm going to kill you with it. You're hardly in a position to threaten me. But now I think of it. Why not? When your father, your real father, pays, I'll give you an opportunity to try. I think that's very generous of you. Isn't it? Radzik will crush you. And I'll be there to see it. I very much doubt it. You spied on our camp. You must realize that your father has on a fraction of the forces I've gathered. And now, with the king in captivity, there's no one to levy troops to come to your aid. Even united with Hanush and Divish, your father couldn't raise more men than I have. The only force in this country capable of defeating me is Sigismunds. And he pays me. When he wins, I win. Everything I take now will be mine. And I plan to take everything. So meet the new lord of the realm. A man like you will never rule here. Have you ever heard of Lord Sockle of Lamberg or Sahinek the dry devil? They fought for your king and plundered the estates of the lords in Austria, just as I'm doing here. Like they say, the stronger dog fucks the bitches. And war is a nasty business. Sir, it's time. Now, I'm afraid I have more important business to attend to. I'll leave Udo here to keep you company. And let's hope for both our sakes that your father pays up. Farewell. Rotten hell. Che bastardo. Come on, Eric, let's go. We've got work to do. Però dai, era un po' nell'aria. Io me lo sentivo che c'era qualcosa di storo tra Serrazi e Harry. Chi è? Jesus, that brute really works. You're over. Here. Try to drink. Chi è? Chi è? I thought you'd never come round. How do you know my name? Don't you recognize me? No. Ossi, Barashek. You fucking traitor. You throw me to those bastards, and then look me in the eye like nothing happened. Shhh, quiet. Maybe we started off on the wrong foot. But I'm your only chance to get out of here alive. So do you want my help or not? Ma perché io ho la memoria corta? Non me ne ricordo mai queste persone. Vabbè che i loro nomi sono anche super difficili da ricordare. Chi è tu? I want to get you out of here. But if you'd rather, I can leave you to rot and get the shit kicked out of you by Ishtran's bruiser. Allora, ehm... Le mie cose, d'accordo, andiamo... Perché vuoi aiutarmi? Why would you, of all people, want to get me out of here? I've got my reasons. If not for the good of my soul, then for the good of my person. It'll cost you a few groschen, and that's all you need to worry about. You shouldn't look a gift horse in the mouth. Shouldn't I? Even when it comes from a treacherous bastard who set his cutthroat friend on me when I was trying to bury my parents. Ah, me lo ricordo. Me lo ricordo, è il ragazzo quando siamo arrivati a Scalica, che abbiamo saputo i nostri genitori, e lui era lì. Sì, me lo ricordo. Qual è il vero motivo per cui vuoi aiutarmi? Allora, siamo forti su qualsiasi fronte, quindi... Dimmi la verità. Sì. But I do care. I don't believe a word you say. I know you're up to something. So you'd better try harder to convince me, or I'm not going anywhere with you. Not a day passes without these cutthroats pulling daggers on each other. And I'm the youngest, so they make a slave out of me. Good. A bandit's life isn't quite how you imagined it, eh? My heart bleeds. But you could easily make a run for it on your own. Why bother with me? Look, I just want to live a normal life. For that, I need peace and some coin. You need to get out of here and you've got coin. My help won't cost you a tenth of what Istvan would want from Sir Retin. Why shouldn't we help each other? Beh, effettivamente non è una cattiva idea. Vabbè, perché non scappi da solo, credo l'abbia appena spiegato lui. Comunque facciamo la nostra stessa domanda. Why don't you go on your own? What would I do? I've been left alone in this world and I'm an outlaw. How long do you think it'll take me if I'm swinging from a gibbet? I need to get some coin. E visto che noi siamo i figli di Sir Retin, siamo ricchi da poterli dare. E le mie cose? What about my possessions? Eric has your thoughts. It would be suicide to try and get to them. No, no, come no? Oh, wonderful. So I'm supposed to make a run for it like this. It'd be better if you wore something to blend in, it's true. But I can't go and get you in. I'm supposed to be guarding you. So if I leave my post, I'll have to avoid the others just the same as you. No, non posso rinunciare a tutto. Porca miseria. Le armi ancora e ancora ne puoi comprare l'armatura. Vabbè. Qual è il tuo piano? No. How do you propose to do it? Finally we're getting somewhere. I know a way you can get out of the fortress without anyone seeing me. I'll untie you and you'll have to make your own way there. It shouldn't be hard at this time of night. I'll wait for you outside. Afterwards, you'll tell your noble father I helped you so they don't hang. And naturally, you'll pay me something for the risk I'm taking. Risk? Sounds riskier for me than for you. Not really. What are they going to do with you if they catch you? They want to ransom you, so the worst they'll do is lock you up again. But me, who was supposed to be guarding you and let you escape? Nobody's going to pay no ransom for me, friend. Vabbè. D'accordo, facciavolo. All right, then. Let's get out of here. Untie me. That's what I want to hear. But first, swear you'll tell Sir Ratzik I helped you. And that you'll pay me too. You have my word. What's the plan? All right. I'll have to trust you, man of honor. Now, listen. I found a place where you can easily get out. Down in the camp, on the slope of Ufsa-Sao, there's a place where they throw the waste over the wall. The pile of shit reaches almost to the top of the stockade. All we have to do is jump over. Sulla merda, dobbiamo cadere sulla merda. Free? Free and covered in shit. So that's all? Well, first, we both have to get there. We can't let anyone see either of us. I'm supposed to be guarding you when you're... Well, I'm supposed to be guarding you. So we have to keep to the shadows and stay away from prying eyes. I'll go first. There shouldn't be anyone outside in front of the barn. When you're out, go left along by the wall. There are clips everywhere. So try not to get yourself killed. I'll wait for you not far from the camp, by the dead tree between the path and the brook. Good luck. Okay. Uh, allora. Quindi... Però, aspetta. Prova a recuperare il tuo equipaggiamento. Vabbè, ha salvato la partita. Ma la che va, riproviamo. Però dai, non posso andarmene senza il mio equipaggiamento. No, un po' si di crimandello. Cazzo. Ah. E questo è un problema, ragazzi. Questo è proprio... Ma va, fa' un gulo. Vabbè. Allora, ragazzi. Allora, ripartiamo da qui. Facciamo ricambinare la guardia. Noi ci nascondiamo qui in questa casetta buia. Non appena la guardia si mette da qua di spalle. La... La stordiamo, la uccidiamo, recuperiamo l'occupaggiamento della guardia. E vediamo se c'è qualche crimandello qua in giro. Però adesso ci mettiamo qui. Dov'è? E aspettiamo che torni a camminare. Eccola. Si sta muovendo. Facciamola avanzare. Aspettiamo che ci dà le spalle. E stordisci. Allora, raccogli corpo. Allora, innanzitutto lo uccidi. Perché evitiamo che si... Si risveglia e può darci problemi. Poi... E il corpo lo mettiamo qua dietro. Non dovrebbe vederlo nessuno. E comunque ci fottiamo tutto il suo equipaggiamento. Tutto, tutto. Ok. E ce lo mettiamo noi. Però... Spero non vi se ce l'avete il crimandello. No, vantaggio. Non l'avete il crimandello. Vabbè. Allora, armi. Allora, armature. Bacinetto. Brache. Brache di maglia. Brigantina. Calotta. Calza brache. Cavaglio. Cappuccio. Gambisone. Manopole. Manopole. Scarpe. Abbiamo abbracci pure, sì. La torcia. Ok. Peccato che il crimandello non ce l'aveva. Togli la torcia. Adesso, con calma. Vediamo se c'è qualche altra guardia isolata. Ora, non so se queste... Posso passare in osservato, sinceramente. Perché l'uscita è qua. Però, boh. Vabbè, vediamo prima di recuperare... C'è qualcun altro qui in giro? Sì. Dimmi che tu... Hai... Cavolo. Ci riconoscono lo stesso. Vaffanculo. Vabbè, dai, vediamo se... Riusciamo a farlo fuori. Arrediti. Arrediti. La tua fortuna è che non ho la mia armatura e la mia spada. Oh, si è arreso, si è arreso. Libero senza condizioni. Lascio la del riservato. No, che... Questo va a chiamare gli altri. Possibile combattimento. Dove è andato? No, vieni qua. Ma è morto? Scusa. Ah, ok, è morto. A posto. Allora, prendiamoci sempre tutto. Magari poi vediamo l'inventario se c'è qualcosa migliore di quello che abbiamo prima. Un crimandello. Ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Crimandello. Ebbè, questo non serve neanche. Ok. Adesso, torniamo alla porta e vediamo se riusciamo ad entrare. Dov'è? Di qua. Speriamo che non ci sia dentro pure quell'altro. Ok. Allora, abbiamo un bolle qui. E uno qui. Iniziamo da questo. Questo, però, è difficile, quindi dobbiamo fare un po' più attenzione. Calma, calma. No. Ok. E qui non c'è la mia armatura, però ci sono cose comunque utili. No, aspetta, bacino di signore di lei, poi questo è mio. Tutto di vendaggi. No, sì, ragazzi, sì, 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 sì. Sì, c'è, c'è tutto. Ok, allora, prendi tutto. Ok, video completato. E qui, invece, che c'è, allora? Vabbè, c'è comunque cose interessanti pure qua. Le pozioni. Eh, vabbè, questa è la freccia. Ok, ragazzi, io direi adesso di equipaggiarci con la nostra armatura e provare a scappare. A posto. Ci siamo liberati di un po' di roba che non ci serve più. In realtà, questa potevamo anche prendercela e per poi rivenderla. Effettivamente. Però, no, ragazzi, io adesso me la devo dare a gambe è scappare da qua. Ora, abbiamo assodato che questi comunque, se passo, mi vedono, anche se erano travestiti dal da soldato come loro. Quindi, vediamo se c'è qualche altra uscita, non so. Forse da qua. Niente, abbiamo visto già. Via, 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 via. No, no, cavolo. Via. Lasciami stare. No, 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 via, via. Allora, visto che ci vedono, direi a questo punto di scappare e scendere subito giù. Devo salire qua sopra. Però, aspetta. E no, cosa è qui sopra? Perché se io vado da qua... Aspettate, vorrei provare una cosa. Vediamo, se io vado di qua, allora dove stava l'arciere. Ok. Poi, da qua, scendiamo giù qui e arriviamo qui a queste scale. Vi devo fare tutto il giro qua intorno. e uscire di qua. Oddio, sembra un po' più... un po' difficile. Cioè, più facile a dirsi che a farsi, però... Proviamo. Dove cavolo saranno le scale? Qui. Dovrebbero esserci delle scale. Eccole qua. però... voglio sistemare anche le guardie, solo che... Aspettiamo che questo ritorni e venga a fare nuovo il giro. rimaniamo qui nascosti, aspettiamo. Allora, proviamo ad avanzare. Se ci vede, corriamo. Via, c'ha visto. Via, via. Via, 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 via. No, no, dove cavolo è l'uscita? Dai. Ah, però non ci segue più, raga. non ci segue più. Se questo si gira... Vai così. Vai così, con calma. Dai che lo facciamo fuori senza farci vedere. Uccidi. Che hai? Un vantaggio che serve sempre. frecce. Grimandello. Groschen. Pugnale. E basta così. Merda, ne arriva un altro. Vabbè, cosa ci vedrà? Sti cazzi, via, via. Via, 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 ok. Ecco l'uscita, ecco l'uscita. È qui? Dimmi che è qui, dimmi che è qui. Non è qui, non è vero, non è qui. Via, togliti, togliti. Da, via. Dai, dai R, resisti, resisti. No, lasciami andare. E se l'ho affronto, vaffanculo. tanto sono solo due e gli altri neanche ci hanno sentito. Ok. Merda, ne sta arrivando pure un altro da là, vaffanculo. ah, si è fermato? Ok. Ma sono in due. Sono in due. Vabbè, se li attiriamo qui, magari. No, sono in tre. Porca vacca, sono in tre. e l'uscita è qua vicino. Vabbè, eh. Scusate, salve, devo scappare. Via, via, dai. Niente, non scappa. Perché non scappa? Vabbaggia la puttana di nuovo. Allora, andiamo qua. Mettiamoci qui. E colpiamo. Resisti, Harry, resisti. Ok, calma, calma. Curiamoci, c'è un altro, ne ho visto già un altro. Madonna, mo' mi sto agitando e non trovo le band. è impossibile utilizzare il combattimento, mannaggia. Allora, comunque, l'idea è buona, ci sta. Quindi, riproviamoci. ok, ci siamo. Dobbiamo scappare da qua, giusto? Fugge la capa a me, ok. Non so come ho fatto, ma siamo fuggiti. fai la portata delle lezze e incontra Zabiski. Madonna, ma qua è un dirupo. Qua io mi faccio malissimo se scendo di qua. scendiamo pelo piano, ragazzi, e speriamo di non farci malissimo. Calma. Anche perché, raga, fra un po' ci salutiamo. Ok, siamo scesi. Non penso che mi seguiranno questi qua fuori. forse non si vede una cippa, magari così è meglio. Perfetto. Non mi seguono più. Allora, andiamo a parlare con il nostro caro amico. Allora, siamo fuori. Ora è il tempo per mantenere parte del rischio. un patto è un patto, dai. Anche se sei stato uno stronzo, comunque mi ha aiutato. non ti preoccupare, io continuo i miei parole. Ma devo andare a Rattai e vedere il mio padre. Lì, hanno avuto la mia coincazione quando mi ha capito. Fine. Dobbiamo fuori da qui così rapidamente. Il nostro Eric dice mio padre con un tono diverso. fuori da questo grande bambino non mi ha fatto molto bene. Non credo che hai un'altra città escondendo qui. Un'altra città? In realtà non ho pensato di fare pure a piedi fino a Ratti. Ma Anush lo sa vero che è nostro padre. I'm sorry, Sir. This fellow Henry. Padre. I told you he had balls. Well, I see that you haven't been idle and we'll certainly need to have a talk later but not quite so publicly. Looks like you have plenty to tell us. What happened? I, uh, I got a bit tied up at Vranjik. but now I know what they're planning. What's being planned and who's planning it? Spit it out, boy! There's no longer any doubt about it. It's that Hungarian noble you were hosting on the same day Sigisman pillaged Scalitz. Sir Ishtvan Toth. Toth and his people. Everything fits. They're the ones making the counterfeit money and using it to hire mercenaries from all around. He's already got quite an army at Vranjik. But what the fuck is he after? I can tell you exactly and you won't like it. How's that? I had quite a long talk with him. What? When I was trying to get into his camp I was taken captive. We had a bit of a chat. Actually, he told me his entire plan. What? I suppose he thought he didn't need to keep it secret any longer. I'm not all that surprised. Why not? What's that bastard planning? He's in the service of Sigisman. He wants to destroy King Wenceslas' allies. That means us. He's gathered a very large force. I'm honestly not sure if we can defeat them. And he knows no one will come to our aid now. That fucking cunt! I'll skin him alive! How many men has he got? More than a hundred, I'd say. And how secure is their camp? It's an old abandoned fortress on a hill above Sassau. It's inaccessible from three sides surrounded by a timber palisade. Bastard! I'll crush that rabble of his! That's easy to say, old friend. It seems Toth isn't taking any chances. Together with Divish we can muster enough men. And we can all see there's no time to waste. That bastard wants a battle? Much better we pick a time and place than he does. Undoubtedly. We have to take them by surprise. It would be best to attack tomorrow night. We can't get ready any sooner. That's what I like to hear, Ratsig. Henry, I want you to get yourself fixed up and then go straight to Sir Divish of Talmberg. Tell him to assemble all the able-bodied men he can and bring them to Vranjig tomorrow evening. We'll wait for him there. Yes, sir. Finally, a chance to show I'm not carrying a sword just for ornament. What is it, Henry? Is there something else? The thing is we have to deal with Zbyshek. Zbyshek is from Skalitz. he helped me escape captivity and save my life. I promised him a reward for it. Indeed. Well, Zbyshek, if you save my son's life, I'm grateful to you. As a token of my gratitude, please accept this reward. Thank you, sir. Thank you for your generosity. And under the circumstances, we won't ask how you came to be with that herd of swine of Warnik. But, it's not a threat. It's not a threat. Before I start thinking about it. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, my lord. Thanks, Henry. God be with you. and a good meal inside you and get those wounds and then we'll be salutating you. If you need equipment or armor, tell Bernard. He'll give you what you need. Yes, my lord. No more, my lord. I'm your father. I swear, Hal, I plan to tell you. I'm sorry, Ishtvan, of all people beat me to it. But now, we have more urgent matters to deal with. Later, we'll have time to talk about it. What do you say? As you wish, my lord. Father. Father. Good. Now go to Divish as quickly as you can, son. God bless you. Signori, allora io direi a questo punto di salutarci qui per questo episodio, probabilmente siamo ormai alle battute finali, non so ancora quanto manca ma non dovrebbe mancare tantissimo, come sempre vi invito a mettere un like, a commentare e a iscrivervi al canale, spero che la serie vi stia piacendo, commentate e attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo sempre qui su YouTube nel prossimo episodio, ciao! Grazie